Urrà per i McGregor! Urrà! Ecco i McGregor, sette ragazzi scozzesi che non hanno paura di nessuno e che non dicono mai di no quando si tratta di venare le mani. E queste sono le Donovan, sette ragazze irlandesi che non dicono mai di no quando si tratta dei McGregor. Vi hanno entusiasmato, vi hanno commosso, vi hanno divertito in sette pistole per i McGregor. Tornano a entusiasmarvi con le loro nuove avventure. Sette McGregor hanno incontrato sette Donovan, per la prima volta nella storia sette per sette fa il 48. Sette McGregor, sette ragazzi scozzesi che non dicono mai di no quando si tratta di venare le mani.